Provando a raccontarvi, però è un caso importante. Beh, da un certo punto di vista non è una polveriera, però è molto importante per la società. Noi siamo arrivati a questo sciopero dopo un itinerario che è durato tre anni e lo facciamo molto a malincuore, devo dire, perché l'università ha subito un ridimensionamento che non ha paragoni con le altre nazioni progredite. Questo è qualcosa che non viene percepito dall'opinione pubblica, non viene anche compreso dalla politica ed è qualcosa che ha delle conseguenze pesanti sui giovani, sul futuro del Paese. In questo caso noi stiamo scioperando per un aspetto molto specifico che è legato all'anzianità di servizio che ci è stata congelata per quattro anni, dal 2010 al 2014 e c'è stato anche un blocco degli scatti per un quinquennio, quindi il 2010-2015. Ecco, scusi professore, però per molti che in questo momento ci stanno ascoltando, voi siete considerati dei privilegiati, docenti universitari, persone che guadagnano uno stipendio importante. Adesso non so quanto è lo stipendio universitario di un ordinario, di un professore ordinario dell'università. Beh, un ordinario che adesso sono cambiate le tabelle, ma un ordinario di prima nomina credo possa essere inferiore ai 3.000 euro. Adesso io ho un po' di anni sulle spalle, non glielo so dire a menadito. Però può andare dai 3.000 ai 5.000 euro, credo, immagino, no? Lo stipendio di un docente universitario. Credo che sia molto difficile arrivarci, di questi tempi arrivarci credo sia molto difficile, perché, diciamo, un conto sono le tabelle stipendiali di una persona che rimane ordinario per molti anni. Comunque, diciamo, lo dicevo semplicemente per dire che nella percezione magari di chi ci ascolta dice, vabbè, non si può parlare di bomba sociale, avete appena, come dire, raccontato quello che avviene nelle periferie della capitale. Però il vostro tema, lei dice perché, cioè voi parlate, chiedete l'aumento dello stipendio, qual è il problema? No, non è un aumento dello stipendio. Nel 2010 è stato chiesto a tutte le categorie di contribuire ai conti dello Stato e sono stati bloccati gli scatti di tutta la pubblica amministrazione. E su questo non abbiamo niente da rivendicare, nel senso abbiamo dato il nostro contributo, l'abbiamo dato come altre categorie e non chiediamo indietro quei soldi. La questione che è difficile da spiegare, ma che è fondamentale, è che ci è stato cancellato l'anzianità di quegli anni. Quindi per chi in quegli anni ha prestato servizio sono passati cinque anni senza che quello che lui faceva diventasse parte della sua anzianità. Quindi paradossalmente un professore che fosse entrato in servizio nel 2016 è nella stessa condizione di chi era entrato in servizio nel 2010, perché quei cinque anni sono stati completamente cancellati. Quindi in sostanza salterà il primo appello, quello autunnale, con questo vostro sciopero, no? Allora, lo sciopero è stato fatto molto mal in cuore e è stata la soluzione che abbiamo dovuto percorrere perché tutte le altre strade sono fallite. È stata fatta una lettera mandata al Presidente della Repubblica con 21.000 firme, è stato tentato il boicottaggio della valutazione della ricerca. Va bene, nessuno vi ha risposto, quindi ci sarà lo sciopero, è così? Sì, lo sciopero è stato anche calibrato in maniera tale da procurare un disagio perché uno sciopero così deve essere. Ho la pubblicità, torniamo tra poco.